SIGLA salve a tutti ragazzi siamo Don 3D e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo su GTA E' questo soggetto che mi do, mi sta ristorando No, no, scappa, scappa No, no Guarda, le cabine telefoniche Protettive, guarda, guarda Sì, sì Io c'ho un pochissimo C'ho pochissimo di vita, vieni qua, vieni qua Allora, non ci ha fatto fare l'intro questo giocatore Gli distruggono la macchina, gli distruggono la macchina No, non ho soldi Non ho soldi Compra anche tu un fucile d'assalto Che è bellissimo E' la blista compact, è la blista compact Uno pneumatico Dobbiamo andare a prendere Bumblebee Aspetta, io devo ordinare la mia macchina Eh, vabbè, perché mi si arrivano le foto? Io non mi voglio fare una foto E' passato un caglio Oh, questo delle poste Ce l'ha con me I postini supremi Oddio, aiuto, arriva una macchina delle poste Che mi attacca Vieni sulla moto, sali La soluzione è solo una Madonna, messi le Madonna, oddio Ho fatto i peggiori Tu sei catturato Signore, oddio Oddio, la posta La posta Oh, sono morto Hai messo, hai messo Sì, 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 sì Ecco, ottenevi Oh, tu dove si credi di andare No, non l'hai preso No, non l'hai preso Vabbè No, ci sta una macchina in la polizia Sì Vabbè Ce la possiamo ancora fare Ce la possiamo ancora fare Capiamo la magica Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut bamboli è devastato per angola o la polizia di coloro di 40 o guarda che gira per fare guarda ok è sempre 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 io sono sempre diritto e investimi 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 tu credevi a tu credevi ma la polizia ma investito investito la polizia o per te che cacchio un po 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 come fai schifo credo sul tuo cadavere sul tuo cadavere sito preso che ti aspetto ecco arrivo allora aspettare signore sono un po di chitarra andrea ti aspetto no no ho la resistenza a 100 finalmente perchè dovete sapere che avevo un altro personaggio solo che poi aveva azzerato con un glitch buggold ok arrivi ok aspetta dove è il gigas ciao ah no dove sei arrivato no no cosa vuoi fare ciò tanica allora questa è una granata no però no no non è una cosa dobbiamo tuffarci nel torrente super tuffo aspetta aspetta arrivo arrivo ah hai visto che ho arrivato prima io sono arrivato prima io sono arrivato prima io io sono morto ma perchè muori sempre fai schifo perchè sono nell'acqua basso e basta che mi investono questi aspetta abbiamo fatto con la capriola aspetta perché c'è una cosa addosso ok grazie dov'è uno va che è brutta sono morto ah no penso di essere morto io si io si no sali perchè tu per levarmi quella cosa no mi hai fatto perdere la la vita no la vita la sicurezza ah è giusto al volo a mezzà al volo a mezzà come hai preso la caviglia tipo così così è urgente è urgente è al cuore ah vabbè non fa niente ma capiglia tutta a terra tutta a terra si è fatto malare la caviglia la tattica 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 ah no no via scendiamo guarda che tuffo tu pensavi madonna che vuole come lo sapevo come lo sapevo no ho le stelle pure io gigante vai sali no vabbè caduta inutile oh no ho smattuto ho smattuto mortissimo sono smattuto mortissimo ma non ho perso niente vuole dare che io devo andare dove devo andare a rapinare levati dalla mia strada comune mortale questo è un deo delle macchine vai subito dammi tutti i tuoi soldi l'ho ucciso no ho preso il braccio no quando scappi tu entriamo entriamo buuuu divazio dimmi se escii ti do 20 euro certo e come la polizia non mi può la polizia non mi può uccidere eh lo so perciò aiuto aiuto ah tu non vuoi neanche entrare però ok io io sto qui non è buono guarda la polizia che cerca di andarci guarda il camion della frutta ahahah ahahah ma vabbè c'è veloce sali eh no ma oggi si tuffa no aspetta mica eh no devo cercare la polizia eh vabbè eh vabbè io non so niente che stiamo veloce che c'è un poliziotto sotto la ruota eh oddio oddio ahahah oddio ricada addosso ricada addosso ok vai 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 ok ah no scappiamo sto morendo dato sinistro dato sinistro dato sinistro dato sinistro dato sinistro fiangolo oh mi so buttare non ce l'ho fatta io già stavo per fa ma ho fermato un pezzettino di di cose eh pure io pure io guido io guido io vai sali vai 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 eh no non possiamo fare la tattica lo so tattica no ecco oh ce l'hai fatta ahahah eh ma sono morto è volato a cegra ahahah vai 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 perché ci hanno storto la ruota se vai sempre dritto forse trovi un po' tattica no mi sono schiandato ce la stavo ce la stavo per fare no il sandic sta morendo vai vai non pensare a me non pensare a me non pensare a me ok no ok vai 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 no 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 vai sei smontato e vabbè ahahahah vedo una tramvata col cosa diti col faro boh b 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 te no vado matri vado vado la vado ok vai vai bellissimo quando c'è un ricordo c'è un ricordo c'è un ricordo ahahah vai guarda qua no oddio oddio e vabbè il volo voleva portarmi è lui ho fatto un super volo come caos lover ho deciso ah si è l'ucciso volevo saltare un po' di più chiama una macchina chiama una macchina meccanico oddio questo è un genio non si può mettere nel garage giusto non mi schiacciare la macchina ecco vai vai su dove c'è la sabbia bobbiamo eh ok non cado eh lo so ah tocca a me adesso aspetta qua sopra cado nooo ok nooo aia dove sei salito dove sei salito no non andare indietro dove sei salito salito guarda la macchina a quanti ahahah ahahah monster jam no 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 oddio ma non so come mi sono retti in petto è esploso oh no 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 la mia oselo è esploso che cosa è esploso è esploso il camion quale è il nostro ma come è esploso lo stesso è esploso Scegli si è esploso sì è esploso è esploso è esploso è esploso è è frontietro oh god ti aiuto ti aiuto Ehmifo Oh, ma ok Grazie Fammi alzare adesso No...no...no...no...no... Oh, perché? Ehhh...Fotti Fotti Noo Noo Fotti Ahh aisés che mi ha spinto! MA N'HO SPINDO S'hai messo sotto il camion E BO Ohkeh Ahahah Okay, no Te li ho nutàbri solo d'eariananza Okay Oh o lo sportello ma come sono morto distrazione distrazione ti rendi un goso d'acqua ho capito le tue intenzioni barbare pensavo che ti piglia la lisciata piadina oh me lisciato o adatta taranto tararo l'esistenza l'esistenza e non aveva l'aeroporto non si può entrare ahia chi è che mi ha pigliato ahio ma che ci sta e cosa devi do la oddio è esploso tutto quello era un kamikaze l'esistenza 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 costo non mi tirare pugni che devo salvare bellissima io questa qua mi devo comprare però quella quella s x non mi ricordo come si chiama che è diverso oddio ci sta una persona a forza un culo una persona normale bellissimo sta guardando il cielo a cacchio guarda eccomi eccomi sto per arrivare a forza un culo questa bella persona tutta tranquilla e lo uccido no non la ucciderai fammi venire a me prima troppo tardi troppo tardi no io so per entrare sperimenti di dove a dove atterrò io più o meno basta che non troviamo un guerrero ok e dobbiamo missione caccia dobbiamo prendere due caccia oddio attento attento il palo attento il palo attento tutto calcolato no il carro armato oddio 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 scappa madonna oddio il caccia decolla il caccia guarda dove oh mio dio ha sparato al caccia non è cretino chi il carro armato ha sparato al caccia oh titan no ma qua stanno i carro armati ok vai a destra prendiamo un caccia allora facciamo eccolo carro armato perché sta sparando ai caccia dove a destra o a sinistra quando prende il calcio a me lo c'è sinistra sinistra oddio il carro armato un altro carro armato vicinissimo sono passato a un punto a uno spicchio oddio 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 si avvesse esplodono madonna che schivata guarda guarda oggi vedo nemmeno io che ho fatto quella schivata ho passato un razzo mi ha fatto il taglio di capelli ma non c'era la mia ultima scelta questa è la mia ultima scelta ora loro sono fottuti perché questa è l'ultima cosa che dovevano fare secondo me non ce la fanno salire proprio la rampa ma per secondo me vai vai c sta l'altra parte vado lo so quella che medio e metto io ragazzi noi ci andiamo da los santos perché ci sono scocciati questa città quindi non andiamo andiamo di ag certo vada a cercare gli squali in realtà Lo Santos non esiste più No, no, attenzione, no No, no, no Non uscire, non uscire dall'aereo che ci salviamo Non uscire Qua sto all'ala, si rompe tutto C'è, grazie, si è uscito Esco pure io No, il palacalute si è tolto Non è palacalute di riserva Non è palacalute di riserva Quello si toglie apposta, lo sai Oddio, oddio Nel blu più blu dipinto di blu No Io muoio No, non sono morto No, non sono morto Eh sì No, siamo morti Non ci sono tornati a casa Allora ragazzi, andando sto arrivando le guardie Però noi stiamo qui Non abbiamo cacciato la pistola Comunque, io vi invito a lasciare un mi piace E ti faccio un mi piace No, no, no Anche Jekylls fa mi piace beccare anche lui Noi sono le guardie, le guardie Vai sott'acqua, sott'acqua Sott'acqua, sott'acqua Guarda come vengo sott'acqua Guarda come vengo sott'acqua Ma to chi è Non mi fanno sott'acqua Non mi fanno sott'acqua Non mi fanno sott'acqua Anzi vuoi Non mi apri Vabbè Anzi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale Amico, anche quello di Jekylls che è in descrizione Oh come è nuovo, guardalo, sono un delfino All'AndreDNA e Jekylls è tutto per questo episodio di GTA E ci sentiamo ad un prossimo episodio Ciao Ciao